Sè, vabbè, ti sei sprecato, super poop! Non gli dare leggendario, non ti azzardare a dare... Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video delle Build Battle. Chi è il migliore giocatore delle Build Battle? Non io perché faccio veramente tanto schifo a costruire delle Build Battle, però provo a fare del mio meglio e voi lo apprezzate. Allora, oggi dobbiamo costruire un delfino, un trappolo, come si fa un trappolo? Posso costruire trapani semmai la città, un serpente, un ombrello oppure dei dadi. E infatti sono usciti dei dadi, no, ma come si costruiscono i dadi? Allora, 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 aspettate, calma, calma, calma. Ho più o meno un'idea, però per realizzare per bene questa idea ragazzi ci vorrà veramente tanto, tanto lavoro. Ci servirà del legno, direi che il legno scuro va più che bene, e poi del legno chiaro. E quindi questo qua, per esempio. Ma io faccio talmente tanto schifo a costruire che non so neanche come fare un tavolino. Ma vi rendete conto ragazzi? Ma dove siamo arrivati? Ma dove è arrivato Kendal? Proprio fa troppo schifo a costruire Kendal. Per quale motivo la guardate questa serie delle Build Battle? Io veramente non vi capisco, non vi capisco. Però visto che vi piace così tanto, ovviamente la continuo. Grazie mille a tutti quanti del supporto, grazie per le iscrizioni, per tutti mi piace. E soprattutto, vi siete iscritti al mio nuovo canale ragazzi? Perché ci tengo a fare la promo al nuovo canale, visto che sarà veramente una figata assurda e caricherò tanti, tanti, tanti video. Il link lo troverete qua sotto nella descrizione. Ora, credo proprio di aver fatto un grosso, grossissimo errore ad aver utilizzato questo, perché se provo a mettere un blocco sopra, infatti il blocco praticamente è volante. Oh mio Dio, abbiamo già sprecato un minuto della nostra vita! Come si fanno i dadi? Aiuto per favore, qualcuno mi insegna a fare dei dadi e un tavolino. Tra l'altro ancora, non l'abbiamo neanche fatto i dadi, stiamo facendo soltanto il contorno per la costruzione, quindi il tavolino. Adesso dobbiamo continuare a chiudere il tutto e per fare per esempio qualcosa di molto molto bello potrei fare una specie di tavolino verde. Quindi avete presente tipo il blackjack e tutte queste cose qua? Ecco, potrei fare il tavolo verde. Ci ho pensato soltanto adesso, magari come se fosse una specie di tappetino. Ora, dobbiamo mettere i dadi per fare i dadi. Come si possono fare i dadi? Si potrebbero fare con i bottoni, oppure si potrebbero fare con la lana bianca e nera. Ma la lana bianca e nera non si può mettere. Questo non si può mettere neanche, vero? No, infatti, potrei mettere le teste. Quindi se per esempio prendo una testa, testa e dobbiamo cambiarli, custom skulls, ok, color, lo dobbiamo fare bianco e nero. Si può fare insieme? Mi sa che non si può fare bianco e nero, no. Non si può fare insieme, mannaggia. Vabbè, allora noi ragazzi mettiamo un pochettino di dadi bianchi e un pochettino di dadi neri, così a caso, giusto? Per esempio uno qua, poi un altro qua. No, questi devono essere storti però. E facciamo per esempio una fila rossa e una fila nera. Quindi così, poi così, 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 così. Ottimo. In modo tale, ragazzi, da capire, da far capire a tutti quanti, che questo teoricamente dovrebbe essere tipo un tavolo da blackjack, avete presente? Si capirà che quelli sono dei dadi sopra il colore rosso, quindi una specie di blackjack. Me lo auguro, sinceramente. Allora, prendiamo immediatamente questo qua, così facciamo il pavimento. Ottimo. Sarebbe bello se potessimo farci anche, che ne so, tipo una sedia, ma non credo di avere il tempo. No, non ho decisamente il tempo, quindi ci dobbiamo accontentare di questi. Sarebbe ancora più bello se potessimo costruire una persona qua davanti, tipo in giacca e cravatta, con lo smoking, che sta praticamente lanciando i dadi. Il problema è che se avessimo avuto magari qualche, non lo so, un pochettino di tempo in più, tipo due minuti in più, ce l'avremmo fatta, ma non mi sembra il caso. Allora, abbiamo fatto ben tre dadi, ragazzi, su un tavolo di blackjack. Credo sia venuta una costruzione abbastanza carina e sono veramente contento. E ovviamente qualcuno doveva farlo, qualcuno doveva fare un grosso dado e basta. No, non mi piace, ti do poop, mi dispiace. Anche questo ha fatto un grosso dado, tutto rosso, vabbè. Anche tu, poop, mi dispiace. Che volete, ragazzi? Usate la fantasia, saranno anche belle come costruzioni perché sono fatti bene, ma dovete utilizzare la fantasia. Questo non l'ha neanche finito. No, super poop, allora. Super poop! Questo ne ha fatti due, se non altro si è impegnato un pochettino di più, quindi diamogli... Gli do un poop soltanto perché uno non è finito. Tra l'altro molti mi dicono nei commenti, Kendall, ma tu te la tiri e tu non sei tanto bravo a costruire. Lo so! Infatti io non me la tiro proprio per nulla. Io lo dico sempre che faccio veramente schifo a costruire. Però questi non mi piacciono proprio. Che ci posso fare? Cioè, il mio potrebbe anche essere peggiore di questi qua. Però se non altro ho provato a fare qualcosa di diverso, eh? Oh, non ho provato... Oh, vedi che lui mi sta dando good. Bravo, bravo Steve! Complimenti! Qualcuno ha capito finalmente cosa ho cercato di fare. Oh! Tutti che stanno a fare i dadi qua. Eh, allora, io sono stato il più originale. Comunque, lui invece che fa... Ma che... Ma perché? Ma perché? Ma non ha capito cosa costruire questo. Beh, l'ha fatto bene, quindi gli do poop. Non gli do super poop solo perché l'ha costruito bene. No, questo non mi piace proprio per niente. Mi dispiace super poop. Vedete che nessuno ha utilizzato l'ingegno. Nessuno ha utilizzato la fantasia. Oh mio Dio, se arriva al primo posto in questo, ragazzi, sarebbe assurdo. Oh, finalmente una bella costruzione. Questo ha fatto praticamente quei dadi che appendi in macchina. Avete presente? Tipo il portachiave. Mi piace. Mi piace, ti do un bel ok. Ma come... Ma... Non capisco. Come hai fatto a non riuscire neanche a completare una costruzione così piccola? È minuscola. Io sono arrivato al quinto posto. Ma, 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 ma... Vabbè, allora mi prendete in giro. Vabbè, molti non hanno sicuramente capito che cosa stavo costruendo. Sicuramente. Comunque, questo se non altro è bellino. È fatto bene, anche se è molto semplice. Ogni volta sempre la stessa storia. La prima costruzione è sempre quella che mi fa prendere un voto basso. Poi la seconda, arrivo primo, secondo, terzo e così via. Diciamo che devo tipo carburare. Ecco, pian piano, miglioro. E quindi adesso dovrei riuscire. Ma che bello quello, c'ha la testa arcobaleno. Allora, dobbiamo costruire un tesoro, una cesta, un soldato, la luce. Come si costruisce la luce, esattamente? Oh, un hamburger. Oh! Attenzione, vi prego, votate tutti. Posso fare... No, no, tutti i soldati hanno votato. Io volevo fare l'hamburger. Che è successo? Io volevo fare l'hamburger. Immaginate che figata costruire un hamburger. Va bene. Soldato sì, allora. Allora, sperando che in futuro possa uscire di nuovo l'hamburger in modo tale da poterlo utilizzare. Ora, il soldatino deve essere verde. Lo sanno tutti quanti, ragazzi. Direi di iniziare dalla piattaforma. Avete presenti i soldatini giocattoli, no? Ovviamente io proverò del mio meglio a farlo super, super bene. Però non è detto che ci riesca. Perché non ho mai visto un soldatino giocattolo disegnato o costruito su Minecraft. Quindi quello che sto facendo è un pochettino un azzardo. Allora, direi di farlo ora di un colore diverso rispetto... Forse era meglio se facevo il contrario. Sì, sì, sì. Credo che questa piattaforma la devo fare di questo colore piuttosto. Mentre invece tutto il resto il soldatino lo devo fare di verde un pochettino più scuro. Allora, adesso gli dobbiamo fare semplicemente le gambine in questo modo. Sperando, ripeto, ragazzi, che si capisca che sto facendo un soldatino giocattolo. Teoricamente si dovrebbe capire, insomma. Beh, dai, non è tanto male. Ok, quindi questo è il busto. Ottimo. In questo modo. Queste sono le gambe. Posso prendere per esempio dei carpet, ok? E metterli così qua per dargli un pochettino più di spessore. Sì, si può fare. Ovviamente non ne posso mettere due. Ok, dobbiamo fargli adesso in qualche modo le braccia. Braccia che purtroppo su Minecraft non sono veramente facili da costruire. Anzi, sono probabilmente la cosa più difficile in assoluto da costruire. E gli dobbiamo fare anche un'arma in queste braccia, no? Ragazzi, non mi prendete troppo in giro perché lo so che c'è già qualcuno pronto qua a ridere di quello che sto costruendo. Però sto provando a fare del mio meglio, chiaro, eh? Cercate di essere buoni, per favore. Perché non è molto semplice costruire un soldatino. Quindi gli facciamo adesso la boccuccia rossa. Perfetto. Gli mettiamo il rosso qua. Gli occhi come li posso fare? Gli posso fare bianchi? Di che colore gli posso fare gli occhi? È super carino. Mi sta piacendo tantissimo. Purtroppo però dobbiamo fargli un pochettino più di spessore qua dietro, altrimenti è veramente inguardabile. Dobbiamo anche fargli una specie di arma. Ma sembra una rana più che un soldato. Ma che cosa sto facendo? Oh mio Dio, ragazzi, mi sono accorto soltanto adesso che sto facendo veramente una cosa bruttissima. Però, hey, l'importante è quel che conta, no? L'importante è il pensiero. Mettiamogli un pulsante per far capire che qua questa è una specie di arma. Beh, se non altro ci ho provato, ragazzi. Che volete? Sembra una spada più che una pistola. Questo dovrebbe essere un soldatino, ma sembra una rana. Che cosa ho costruito? Allora, aspettate, prendiamo del pink così gli facciamo anche le guanciotte, che le guanciotte piacciono sempre a tutti quanti. Ok. Eh, beh dai. Con un po' di fantasia forse potrebbe piacere a qualcuno. Cercate di non essere troppo cattivi nei commenti, vedete? Oh mio Dio, che cosa ho costruito? Poi gli occhi storti, ragazzi, lo rendono ancora più divertente. Vediamo gli altri cosa hanno fatto. Ecco, questo ha avuto più o meno la mia stessa idea. Forse l'ha anche realizzato meglio, il che è molto triste, perché è brutta come costruzione. Anzi, diamo un ok, perché dai, è simpatico. Ok, bene, allora, dai, e quindi, eh, allora, eh, che cosa mi dai tu? Perché mi dai super poop? Tu con la faccia strana non mi dare super poop! No! Mi stanno andorando tutti i super poop. Volete vedere che arrivo ultimo? È questo che... Ma dai! Sì! Vabbè, ti sei sprecato! Super poop! No, gli dare leggendario. Non ti azzardare a dargli... Se ti ha dato leggendario io mi arrabbio, ragazzi. Wow! Questo è bello! Questo è veramente bello. Gli diamo un bel epico. Guardate, ha fatto un sergente! Questo è un vero e proprio generale. E vabbè, allora, ma che oggi siete tutti pigri? Non volete costruire questo? Ditelo, allora. Ditelo. Non voglio costruire, non voglio fare niente oggi. E quindi hanno fatto gli zombie, così, a caso. Questo qua, invece, ha fatto un signore strano, un po' sproporzionato. Però mi piace molto il fatto che l'ha fatto, tipo, col ginocchio piegato. Quindi gli do un bel voto. Gli diamo un bel voto perché l'ha fatto molto bene. Oh mio Dio! No! Leggendario! Leggendario! Sì! Ti sei meritato il grandissimo leggendario perché questa è una delle costruzioni più belle che io abbia mai visto. Anche questa è molto carina, ma quella là era veramente bellissima. E ovviamente la utilizzeremo come miniature di questo video. Mi sembra ovvio. Era super bello. Questo pure è molto bello, quindi gli abbiamo dato un bel epic. Oh mio Dio! Ma perché sono tutti così bravi oggi a costruire? Ok, epico pure a te. Complimenti. Tanto so già che vincerà quell'altro. Anche questo è bello. Questo però gli diamo un good. Questo non si merita. Un epico, secondo me. Mio Dio, ragazzi, arriverò ultimo! Oh no! Mi sono appena reso conto che arriverò ultimo perché tutti quanti hanno fatto delle costruzioni epiche. Ci abbiamo anche un fan. Oh, questo ha fatto... Vabbè. Epico pure a lui. Epico pure a lui. Ha fatto tutta la squadra con il generale. Mio... Ma che mi prendi in giro? Ho vinto questo. E io sono... Vabbè, io sono arrivato decimo. Ok, ci sta. Ci può stare perché il mio faceva schifo in confronto agli altri. Ma quell'altro era molto più bello! Ma non ci posso credere! No, 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 no. Secondo me qualcuno ha barato. Quell'altro si meritava. Quello qui ho dato leggendario. Si meritava il primo posto al 100%. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel mi piace se vi siete divertiti a guardare questo video. Lo so, quest'oggi, ragazzi, ho fatto un pochettino schifo a costruire. Però cercate di essere un pochettino buoni nei commenti. Non mi insultate tutti.